Un treno per il nord. Una scultura in un parco, vicino a una stazione abbandonata. La figura un cane e un uomo. Il cane è in piedi, l'uomo è in ginocchio. Le braccia cingono il collo del cane. La testa è leggermente piegata. Gli occhi del cane guardano la pianura che si estende all'infinito, a sinistra della stazione. Gli occhi dell'uomo sono fissi oltre la schiena del cane, sulle rotaie in base dalle erbacce, dove non passano più treni da tempo. Gli abitanti del villaggio in cui si trova la stazione se ne sono andati. Alcuni cittadini, amanti della natura e della solitudine, vengono ancora a trascorrerci la bella stagione, ma hanno tutti l'automobile. C'è poi il vecchio che si aggira nel parco e che sostiene di avere scolpito il cane e baciandolo, amava molto, di essere rimasto impietrito a sua volta. Quando gli domandano come mai allora è lì, vivo, in carne e ossa, lui risponde con semplicità che aspettava il prossimo treno per il nord. Nessuno ha cuore di dirgli che treni per il nord non ce ne sono più, che non ci sono più treni per nessuna destinazione. Si offrono di accompagnarlo in auto, ma lui scuote la testa. Si offrono di portarlo alla stazione, a una qualsiasi stazione del nord, lui scuote di nuovo la testa. No, grazie. Devo prendere il treno. Ho scritto delle lettere a mia madre e anche a mia moglie. Ho scritto che arriverò con il treno delle otto di sera. Mia moglie mi aspetta alla stazione, con i bambini. Anche mia madre mi aspetta. Da quando mio padre è morto, mi aspetta per il funerale. Le ho promesso che ci andrò. Conto anche di rivedere mia moglie e i bambini che ho. Sì, li ho abbandonati per diventare un grande artista. Mi sono dedicato alla pittura, alla scultura. Adesso voglio di tornare. Ma tutte queste cose, le lettere a sua madre, a sua moglie e il funerale di suo padre. Insomma, tutto ciò. Ma quando risale? Tutto risale a quando ho avvelenato il cane perché non voleva lasciarmi partire. Mi si attaccava alla giacca, ai pantaloni. Abbaiava quando cercavo di salire sul treno. Allora l'ho avvelenato. E l'ho sepolto sotto la scultura. La scultura sarà già. No, l'ho scolpita il giorno dopo. Ho scolpito il mio cane qui, sulla sua tomba. E quando il treno per il nord è arrivato, l'ho baciato un'ultima volta. E mi sono impietrito al suo collo. Neanche morto voleva lasciarmi partire. Però lei è qui. Mi aspetta un treno. Il vecchio ride. Non sono pazzo, come crede. So perfettamente che non esisto. Sono di pietra. Chino sul dorso del mio cane. So anche che i treni di qua non passano mai. E che mio padre è sepulto da tempo. E che mia madre, morta pure lei, non mi aspetta più in nessuna stazione. Nessuno mi aspetta. Mia moglie si è risposata. I bambini sono cresciuti. Sono vecchio, caro signore. Molto vecchio. Anche più vecchio di quanto lei creda. Sono una statua. Non partirò. Ormai tutto questo non è altro che un gioco tra me e il mio cane. Un gioco che abbiamo giocato per anni e che lui ha vinto nell'istante in cui l'ho conosciuto.